Ciao ragazzi bentornati sul mio canale dopo un po' che non mi sono fatto sentire effettivamente ho avuto un po' da fare in ambito lavorativo nonostante la quarantena ma siamo tornati non vi preoccupate torneranno altri contenuti torneranno altri video come avete potuto vedere comunque sono impegnato anche col progetto Calcio Virale su cui andiamo in diretta su Facebook e poi successivamente su Youtube quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina Calcio Virale vi invito a mettere mi piace ai miei video e iscriverti anche al mio canale ovviamente e alla mia pagina Facebook Alessandro Aita giornalista sportivo con questo voglio introdurvi un po' alcuni cambi che ci sono stati quest'oggi perché l'IFAB ha rilasciato il cambio di alcune norme del regolamento che sono state poste nell'incontro posto il 29 febbraio scorso e rese oggi pubbliche queste norme uno dei cambi maggiori è quello sul VAR il VAR che effettivamente ha fatto discutere molto in questi ultimi anni e l'IFAB si esprime in questo modo vi cito proprio le parole utilizzate dall'organizzazione laddove un episodio si presti a interpretazione soggettiva l'aspettativa è che l'arbitro effetti una on-field review visionando le immagini dell'episodio quindi si parla di soggettività con questo vorrei cercare di capire che cosa si vuole intendere precisamente quando le due parti sono in disaccordo arbitro e VAR quando l'arbitro è indeciso quando l'arbitro pensa una cosa e il VAR ne pensa un'altra quindi ascolta e dice vai a vedere l'on-field review punto numero uno non è che vedo così tanti cambi secondo quello che ho potuto leggere questa norma viene introdotta tra virgolette per incoraggiare l'utilizzo dell'on-field review una cosa che effettivamente ci potrebbe stare ma che allungherebbe i tempi delle partite in maniera abbastanza lunga dunque in cosa vogliamo arrivare? su cosa vogliamo arrivare effettivamente con questo? non lo sappiamo potremo saperlo soltanto nel prossimo futuro ah attenzione sempre sul VAR sono state vietate la pubblicazione la resa pubblica anzi dei discorsi tra arbitro e VAR cosa che si voleva cercare di rendere appunto pubblica per garantire maggiore trasparenza alla fine una norma che non è passata beh ci può stare effettivamente andiamo a vedere altri cambi come quello sul fallo di mano anche se chiamarlo cambio effettivamente non è che sia sta grande cosa perché si parla di quando è fallo di mano effettivamente cioè partendo dalla punta della mano fino all'altezza bassa alla parte inferiore della scella proprio c'è scritto così su questo mini regolamento da parte dell'IFAB e la modifica per loro garantirebbe maggiore flessibilità di giudizio e poi si parla del fallo di mano in attacco che un fallo di mano involontario in fase d'attacco deve essere sanzionato solo se immediatamente risultante in un gol o una chiara opportunità da rete per il giocatore che l'ha commesso la sua squadra più appena letto proprio ciò che sta scritto testualmente ci può stare ok se il fallo involontario così passano comunque due o tre minuti si segna un gol essere sanzionati per quel fallo di mano non è anche involontario mi sembra esagerato ma la domanda che io mi faccio è ma la nozione di involontarietà e volontarietà non era già stata messa in archivio in passato? si sono visti quest'anno alcuni rigori dati soltanto perché il braccio era minimamente largo ok si parla di fase difensiva rispetto alla fase offensiva e siamo d'accordo però in quel caso la nozione di volontarietà e involontarietà non è stata proprio presa in considerazione a questo punto per quale motivo bisognerebbe prenderla per questi falli in attacco? cioè non non ha senso non ha per nulla senso fatevelo dire non saprei come spiegarmela effettivamente ci sono state comunque degli altri cambi che vi posso parlare in breve sui calci di rigore se il portiere si muove prima del momento dell'abbattura di un calcio di rigore ma la palla non entra in porta o colpisce valo o traversa il tiro non verrà ripetuto vi sto sempre citando comunque attenzione questo regolamento IFAB che ho avanti avanti ai miei occhi eventuali cartellini gialli sventolati durante la partita compresi supplementari non saranno presi in considerazione nella lotteria dei rigori se un giocatore prende un giallo durante i 120 minuti e uno nella lotteria dei rigori non verrà espulso ok mi pare giusto e nel caso in cui il portiere e il tiratore violino contemporaneamente alle regole sarà penalizzato il tiratore giusto anche questo perché è quello che comunque ha più vantaggio poi altre menzioni un giocatore che non rispetta la distanza obbligatoria di 4 metri quando il pallone a terra verrà ammonito se un calcio se un calcio in invio o punizione il portiere gioca la palla verso un compagno di squadra e questi restituisce con la testa e il petto e il pallone affinché il portiere lo possa riprendere in invio o la punizione verranno ripetuti ma l'azione non avrà una sanzione disciplinare a meno che l'infrazione non si sia verificata ripetutamente cose effettivamente di contorno ma che ci possono stare per una maggiore flessibilità del gioco per renderlo un po' più rapido io ho delle remore però su queste parole dell'IFAB riferite al fuorigioco i membri dell'IFAB concordano sul fatto che la filosofia fondamentale del fuorigioco è di incoraggiare il calcio d'attacco e la ricerca del gol è stato convenuto pertanto che la regola del fuorigioco debba essere analizzata e rivista al fine di proporre potenziali cambiamenti che riflettano questa filosofia che cosa si vuole intendere con queste parole poco tempo fa si è parlato della voler inserire una certa tolleranza cioè magari non è fuorigioco quando si tratta di 3 di 4 di 5 centimetri io sarò all'antica su questo ma non sono d'accordo un fuorigioco è un fuorigioco punto può essere anche di un millimetro fuorigioco è una di quelle cose che col var funziona va bene che funziona fondamentalmente sempre e comunque se introduci il margine di tolleranza che poi l'arbitro dovrebbe andare a calcolare ci saranno ancora più problemi rispetto a quelli che ci sono adesso mi viene da ridere solo a pensarci io ripeto sarò all'antica ma sono per il fuorigioco vecchia scuola cioè vecchia scuola poi neanche tanto ormai se sei avanti alla linea dell'ultimo difensore con una parte del corpo con cui puoi potenzialmente segnare è fuorigioco punto e basta sì ok saranno stati tolti tanti gol nel caso anche la mia squadra del cuore che è per fuorigioco di un millimetro però la regola è giusta così perché è giusta per tutti introdurre un simbolo un segnale di tolleranza potrebbe e vi dico potrebbe influire sull'andamento delle partite perché magari alcuni arbitri non dico consciamente attenzione perché io non sono uno di quelli che va a pensare con plotti e quant'altro ok però un arbitro potrebbe inconsciamente magari applicare un margine di 3 centimetri a una squadra e 5 centimetri a un'altra 2 centimetri di differenza non sono così tanti però possono fare dal vero la differenza quindi rimaniamo con il fuorigioco basilare con tutto il rispetto ok rimaniamo così a questo punto io vi saluto vi invito nuovamente a mettere mi piace a questo video a vederlo a mettere mi piace al mio canale anzi iscrivervi al canale suonare la campanellina mettere il il dito sulla campanellina si suonarla lasciamo stare magari la suonerei io mettere mi piace anche la mia pagina facebook alessandro aita giornalista sportivo avete visto che è partito questo progettino calcio virale che vi invito a seguire ogni domenica sera un abbraccione e ci vediamo a un prossimo video che ci saranno non vi preoccupate ho già qualcosa in mente non saranno le discussioni ma molto probabilmente cercherò di raccontare qualche storiella e spero che vi piacciano ripeto vi mando un caloroso abbraccio in questo momento difficile rimanete a casa e ci vediamo alla prossima ciao